I progetti del soffio della chimera, devo tornare al teatro. No! No, devono aver trovato l'ingegnere. Guardate ragazzi, prima l'ingegnere in fuga e ora l'ombra dell'aquila. Una fortuna sfacciata. Io non la chiamerei, fortuna. Guarda chi ha deciso di farsi vivo. Uccideteli, uccideteli entrambi! Non ci vuoi! Guardate! 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 Sì, non è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La tempesta è più scaltra e cauta di quanto pensassimo. Dobbiamo avvertire gli altri. Potrebbero essere in pericolo. Chiederò a Barnaba di dare un'occhiata ai progetti. In ogni caso, non perdiamo tempo. Torniamo nell'ombra. Ti ho visto parlare con mio marito. Posso aiutare? La moglie dell'ingegnere. Cosa sai dei progetti per le armi? Mio marito ha sparso codici per tutta la caia. Alcuni sono a bordo delle navi della tempesta e altri al cantiere navale. Con essi potrai costruire e installare l'arma. Usala per sconfiggere la tempesta e vendicare mio marito. Sconfiggerò la tempesta con o senza l'arma di tuo marito. In ogni caso, lo vendicherò. Ci sono parecchie navi in Acaia. Cosa devo cercare? Potresti iniziare dalle navi della tempesta, che pattugliano il porto. Hai detto che alcuni codici sono al cantiere navale. Dove si trova? Il cantiere navale militare di Patrasso è alle porte della città. Troverò quei codici. Il canale di Patrasso è alle porte della città. Il canale di Patrasso è alle porte della città. Il canale di Patrasso è alle porte della città. Contriggere i coraggi. è lì non avvicinarti oltre devo nascondermi se non voglio combattere è quello che sto cercando deve essere uno dei codici di cui parlava la moglie dell'ingegnere io non ci capisco nulla forse il barnabasì un altro codice bene non 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu, resta qui. Fuoco! Sistematele entro domani. Sì, ammiraglio. La scilla attende il mio ritorno, ma prima ispezionerò il vostro lavoro ai cantieri navali per vedere altre prove della vostra inettitudine. Muoversi! La tempesta. Non sarà facile, specialmente se faranno funzionare l'arma. Non riescono nemmeno a farla funzionare. È solo una questione di tempo prima che ci riescano. Dobbiamo fare qualcosa. Si direbbe che tu abbia un piano. Dobbiamo seguirla. Se mettiamo fine a tutto subito, è la cosa migliore. Dobbiamo prenderla. Andiamo al cantiere navale. Non è lontano. Non è lontano. Andiamo. 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 Pronti ad andare? Comandante! Rieccoci! Muoversi! Spiegate quella vera! Lì c'è qualcosa che è castiglia. Siamo recuperati. Andiamo al massimo! Meglio eliminare le pattuglie prima che chiari le rinforzi. Non ne abbiamo mai! Fuori le erdi! Stiamo per apportarli! Fondo. Fuori belle. Uno. E qui. E qui. Due thee, No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no.